Il sistema sanitario del Veneto in allerta, pronto ad intervenire se vi fossero casi di coronavirus dalla Cina. Allerta elevato nell'US traveneziana che ha la competenza sull'aeroporto Marco Polo, scalo di transito per coloro che viaggiano verso l'Oriente. C'è da dire che la partita del virus è ancora molto da scandagliare e per certi aspetti anche ignota, visto e considerato che ancora non si riconosce l'eziologia, non si capisce da dove è partito questo virus. O meglio, qualcuno lo può immaginare. Noi siamo assolutamente col sistema allertato, questo è poco, ma sicuro come accade sempre in occasione di epidemie, di pandemie o di zoonosi che possono colpire il nostro paese. Ricordiamo che Venezia ha come azienda sanitaria all'interno l'aeroporto Marco Polo, quindi siamo assolutamente preparati per rispondere a quello che potrebbe succedere in tema di coronavirus e quindi abbiamo rispolverato, usiamo un po' questo termine, tutta la nostra attrezzatura e tutti i dispositivi sanitari che abbiamo preparato già ai tempi della SARS e dell'Ebola. Quindi l'azienda preparata ad affrontare quello che speriamo non succeda, ma per carità può capitare.